No, certo che, dunque, inventarsi un condono per accattare voti è complicato, in fondo ci sono modi molto più diretti, con meno fronzoli, diciamo, per accattare i voti, no? Palermo, voto di scambio, è arrestato l'ex consigliere di Fratelli d'Italia, Mimmo Russo. È rabbia, è amore, è Palermo, è arresto. No, 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 pare, pare, ragazzi, dai, no, cazzate, pare, dico pare, che questo russo, Palermo, è arresto di Mimmo Russo in cambio dei voti, posti di lavoro, ma anche denaro, buoni, benzina o cibo, come merci di scambio con esponenti mafiosi. A me questa notizia sembra esagerata, però, se fosse vera, farebbe il paio con la notizia di Bari della settimana scorsa. Puglia, voti comprati a 50 euro, e anche con quella di ieri, fammi vedere. Bari, l'ex assessore regionale Alfonso Pisicchio, ha arrestato soldi e voti per gli appalti. Bari raddoppia. E voi direte, vabbè, ma è Bari, dai, c'è di mezzo la sinistra, è a Palermo la destra. Forse il voto di scambio non è legato a differenze politiche, ma magari è più una questione, non so, geografica. Sai, i luoghi, il luogo comune per cui al sud i comuni sono più infiltrabili dalla criminalità organizzata. Basta con questi stereotipi, come quello che vorremmo, che il sud si evolvesse come il nord. Sto cazzo, ho sbagliato. È il nord che si sta evolvendo come il sud. Voto di scambio, indagato a Salvatore Gallo, esponente di spicco del PD di Torino. Zalone di Torino. Ua, ua. Beh, non, bambino, sto scherzando, no, ma voglio dire Torino. Perché ce l'hai sempre presentata come la Torino, la cosa la vetta, no? Ma adesso Torino, ma come? Salvatore Gallo, detto Sassà. Indagato per voto di scambio. Ma perché fermarsi qui? Torino Today ci sono poi le accuse di Feculato, di essere entrato in possesso di 16 tessere di transito gratuito ai caselli della SITAF, che gestisce l'autostrada Torino-Bardonecchia. E di essere entrato in possesso di un treno di gomme senza alcuna motivazione. Ma come senza alcuna motivazione? Allora, a parte che io non ci credo. Per me sono tutte calunnie, ok? Ma procediamo per assurdo. Facciamo finta che io ci creda. Beh, allora la motivazione è evidente, sono le gomme invernali. Cioè, per andare a Bardonecchia hai bisogno delle gomme invernali, no? Non so, dico, logicamente, no, sembravo Vespa, non so. Comunque siamo a Torino, ragazzi. L'altissimo Nord. Siamo a Torino. Siamo a Torino. L'altissimo Nord. Quindi non è una questione geografica. Però anche questa è del PD. Quindi forse qui mi ritorna la questione politica. No. A Torino ce n'è un altro. Torino in chiesta antimafia ha indagato anche il consigliere Liardo di Fratelli d'Italia. Anche lui ha indagato, ma io a questo non ci credo. Uno di Fratelli d'Italia, poi, è impossibile. Quelli al massimo vanno armati alle feste di Capodanno, ma... Riassumiamo. Voto di scambio negli ultimi sette giorni. Due case al Nord, due case al Sud, due di destra, due di sinistra. Equilibrio perfetto. Dopo 163 anni di storia, grazie al voto di scambio, l'Italia è finalmente unita. Altro che autonomia differenziata. Questo è amico caro, malvivenza generalizzata. A tra poco con l'uomo che inventò il detto amico caro. Qui è tutta malvivenza, tra poco amico caro.